Bologna Inside, signori, ci troviamo nel cuore di Piazza Maggiore, davanti al Lettuno, sì, in questa fontanella, che non sono tante a Bologna, dove i bolognesi, i turisti assettati si avvedono, guardate che bello, che bella fresca che è questa fontanella, quindi solo Bologna queste cose, se non siete di Bologna venite a visitare Bologna per bere nella fontanella.